Allora, buongiorno. Oggi vi farò un discorso sul ciclo mestruale, sulla tampon tax, quindi anche sull'IVA per quanto riguarda gli assorbenti, i tamponi. Premetto che il discorso è un po' lungo, però è molto interessante, molto scorrevole, quindi insomma sarà a margine una ventina di minuti. Non ci sono grandi terminologie, è fatto sotto forma di storia, io sono una scrittrice che racconta un po' la propria esperienza personale. Vi cito Giuseppe Civati, vi cito il dire le mie cose, avere le mie cose. Vi citerò anche Stephen King, che immagino che conosciate, la città di Sabarimall e il suo tempio. Poi vi citerò anche la Somalia, ovviamente, e il fatto di fare delle battute di bassa lega. E poi direi che ci siamo. Arsenio Lupin, insomma è un discorso molto semplice, fatto sotto forma di racconto, vediamo un po' come ve l'accavate. E ovviamente è satirico anche nei confronti dei maschi, non prendetevela, non è colpa mia. Però, insomma, anzi vi consiglio di fare voi il discorso per allenarvi un po' a praticare un discorso su una tematica di cui probabilmente non siete specializzati o degli esperti. Allora iniziamo. Ogni mese spendo circa 8 euro in assorbenti. Ho un flusso abbondante. Per non parlare delle perdite mestruali. E i 18 pezzi di una confezione non mi bastano mai. Nella mia vita ho usato anche tamponi interni. E quelli costano parecchio. Su ogni confezione pago tutte, come tutte, l'IVA. Quella sui prodotti sanitari femminili. Che pari al 22%. L'assorbente, il Tampax o la coppetta vaginale non sono considerati beni essenziali. Non sono come il pane o un giornale, secondo lo Stato italiano. Noi donne abbiamo il ciclo ogni mese, ma per il paese in cui vivo questo è un dettaglio. Come un dettaglio sono i crampi, quelle emicrane che ti staccheresti la testa a morsi, quel sangue che ti scorre tra le gambe. Un po' come se tutto questo non fosse davvero importante per la nostra bella Italia. Ed ecco che ogni mese ci cade addosso, direttamente sul portafoglio, quella maledetta IVA al 22%. Quando il leader della nuova formazione possibile, Giuseppe Civati, ha depositato in Parlamento un provvedimento per abbattere quel muro del 22%, ho fatto, come molte, i salti di gioia. Finalmente un provvedimento che aggiungeva le confezioni di assorbenti, e in generale i prodotti igienico-sanitari, tra i beni essenziali. Finalmente qualcuno, e per di più un uomo, ha pensato alle mie cose. Appena l'iniziativa è stata annunciata, Giuseppe Civati è stato travolto da una pioggia di sberleffi. Tanti maschietti che hanno ironizzato sulla faccenda, e molti, sempre maschietti, hanno giudicato in equo il provvedimento. In un tweet qualcuno si è spinto a dire A Civati, se la Tampon Tax è la novità rossa, a sinistra di Matteo Renzi, cominciamo male male. Idee sul lavoro? Casa? Energia? E tech? Ne abbiamo? Insomma, in rete e fuori, la Tampon Tax è diventata una barzelletta. Ma barzelletta non è, cari maschietti. Mi rivolgo a voi, perché noi donne sappiamo già che le mestruazioni sono una cosa seria. Lo sanno milioni di donne in Italia, e non solo, che ogni mese vivono la fatica, e sì, anche la gioia, di sanguinare. L'attivista, voce del femminismo statunitense Gloria Steinem, negli anni 70, non a caso, aveva scritto un saggio, ancora molto attuale, dal titolo If men could menstruate, se gli uomini avessero le mestruazioni. Lei scriveva, cosa accadrebbe, per esempio, se di colpo, magicamente, gli uomini avessero le mestruazioni e le donne no? La risposta è chiara, le mestruazioni diventerebbero un invidiabile evento mascolino di cui vantarsi. Ovviamente lei fa un'ironia amara, che mostra il divario profondo tra l'universo maschile e quello femminile. Ed ecco che sorgerebbe un nuovo istituto nazionale per la dismenorrea, voluto dal congresso, e i medici farebbero poca ricerca sugli infarti, di cui gli uomini non soffrerebbero grazie agli ormoni, ma si concentrerebbero sui campi. Oppure gli uomini si saluterebbero. Eh, ciao, oggi ti vedo proprio bene. Certo, le mie cose. Insomma, questo è un tabù. Gli uomini, scrive Steinham, convincerebbero le donne che il sesso è più piacevole in quel periodo del mese e i prodotti sanitari sarebbero forniti gratuitamente dal governo. Ovviamente alcuni uomini pagherebbero per il prestigio dato da marche celebri come i tamponi Paul Newman o gli assormenti Muhammad Ali e ci sarebbero prodotti ad hoc tipo per il flusso leggero da scapoli. Da destra a sinistra, tutti a litigarsi le mestruazioni mascoline che naturalmente si trasformerebbero non solo nella faccenda più figa dell'universo ma, come ribadisce Gloria Steinham, in uno strumento di potere. Invece, come sappiamo, il ciclo mestruato è stato, ahi noi, demonizzato a più livelli. Tra battute e prese di distanza, la donna mestruata è sempre stata considerata strana da evitare irritabile e a volte perfino un soggetto pericoloso. Vi ricordate il Carrie di Stephen King? Lì le prime mestruazioni della ragazza creano più di uno scompiglio e un evento naturale come il menarca è associato a Satana in persona. Il mestru non piace, è un tabù. Anzi, forse è l'ultimo tabù. La donna mestruata è considerata da parecchie religioni impura. Addirittura, in ebraico, c'è la parola Nidha per definirla. Nidha è di fatto la donna che ha avuto le sue mestruazioni e non ha svolto il Mikveh, ovvero il rituale di purificazione. Viene infatti detto, quando una donna avrà i suoi corsi e il sangue le fluirà dalla carne, la sua impurità durerà sette giorni e chiunque la toccherà sarà impuro fino alla sera. Anche nell'Islam, dopo le mestruazioni, la donna non prega e deve fare un bagno purificatore prima di compiere le preghiere canoniche. Ricorda ancora, come in Somalia, la donna durante il ciclo era definita Nijas, impura. Mia madre mi ha detto che tra i pastori nomadi, tra i quali lei è nata, una donna era isolata in quei giorni e allontanata dalle pratiche quotidiane. Insomma, ti chiamavano Nijas e non potevi macellare le bestie o svolgere qualsiasi tipo di attività. E anche oggi, chi non considera la donna mestruata impura, penso per esempio all'Occidente, ci tratta comunque come un soggetto altamente infiammabile. Insomma, queste benedette mestruazioni ci sono, ma il mondo tende a parlarne il meno possibile e quando ne parla lo fa sempre sotto voce. Questo tabù, di fatto, accomuna tutti i patriarcati, da Oriente a Occidente. Forse sono differenti le modalità d'azione, ma la discriminazione direi che è proprio la stessa. Ancora oggi, se ci fate caso, nelle pubblicità delle più grandi marche di assorbenti, il rosso mestruale è bandito. Al suo posto appare, nel nostro piccolo schermo, un flusso blu quasi trasparente, che non solo nasconde, ma rimuove qualsiasi cosa che, in fin dei conti, è parte di ogni natura umana, della donna in questo caso. In India, pochi mesi fa, c'è stata una protesta di donne per ribadire che loro sanguilano ogni mese, e va bene così. Ma nel subcontinente indiano, il mestru purtroppo, è ancora un potentissimo tabù e niente è davvero ovvio quando si parla di mestruazioni. Tutto è nato intorno al tempio di Sabarimal, uno dei più conosciuti e visitati del Kerala. Chi ha preso in carico la gestione del tempio ha di fatto impedito l'ingresso alle donne in età fertile, perché non sapeva bene come distinguere tra quelle pure e impure, ovvero tra le donne mestruate e non mestruate. Il religioso hindù ha riferito ad alcuni reporter locali che avrebbe potuto farle entrare solo se avesse avuto in donazione un dispositivo simile a Metal Detector, ovviamente manuale, da passare sul ventre delle pellegrine. Naturalmente queste affermazioni hanno mandato su tutte le furie le donne indiane e soprattutto quelle del Kerala. Ovviamente molti si sono attivati anche su Facebook e hanno aderito ad un movimento che si chiama Happy to Bleed. Sono stati lanciati messaggi, cartelli e perfino assorbenti sono stati usati come vessilli per rompere il tabù e cominciare finalmente a parlare di questo naturale sanguinamento. Un'altra donna ha portato lo scorso agosto le mestruazioni sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il suo nome è Kiran Gandhi, di 26 anni. Kiran è diventata famosa per aver corso la Corsa Maratona di Londra senza tamponi interni o assorbenti. Nel suo blog ha spiegato il doppio proposito che ha animato la sua iniziativa. Il primo era quello di mostrare alle donne che non c'è niente di cui vergognarsi per il ciclo mestruale. Il secondo, invece, puntava a richiamare l'attenzione del mondo sulla difficoltà che hanno molte donne nel comprare gli assorbenti. Ci sembra facile, quasi automatico, comprare un pacco dei nostri amati assorbenti sotto casa ed usarli. Ma un gesto così per noi non è sempre naturale e me ne sono accorta guardando casi, per esempio, in Somalia del Nord, dove ho partecipato ad una fiera del libro. Lì un pacco di assorbenti costava quanto uno stipendio locale e a volte anche di più. Le mestruazioni sono un grosso tabù in Somalia, ma anche nel Somaliland. Da noi le ragazze, per esempio, rilevano, rilavano, chiuso scusa, e riusano lo stesso assorbente molte volte con il rischio, ovviamente, di gravi infezioni. Oggi le assorbenti ci sembrano, appunto, oggetti scontati, quasi banali, ma sono stati uno dei motori dell'emancipazione delle donne. Le donne, infatti, per secoli, hanno usato di tutto per assorbire il sangue, che ovviamente era mestruale e quindi veniva ogni mese. Per disperazione, per necessità, si è tentato qualsiasi cosa, da papiri avvolti delle antiche egiziane a tamponi fai-da-te fatti con fiori di cotone, carta, muschio, lana e persino pelli animali. Poi sono arrivate le spugnette, gli estratrici della cucina e per le donne più ricche gli avanzi di tessuto. E anche la mutanda, come la conosciamo oggi, non esisteva. Le donne si dovevano ingegnare ogni volta a fissare in maniera creativa quelle stane cose che si dovevano mettere nelle cosce per impedire al flusso di uscire e quindi di macchiare. Ed ecco che tra spilli, calzoncini, corde di vario genere, le donne di ogni tempo si sono attrezzate, ognuna come poteva. Mia madre, per fortuna, ha avuto il suo menarca tardi, ma si ricorda di donne che facevano buche per terra e stavano lì per ore accucciate. Mia madre è stata fortunata perché sua zia, un'ostetrica, aveva la sua dose di assorbenti al mese e glieli passava gratuitamente. A volte però parlare troppo di mestruazioni può portare non solo a battute di bassa lega, ma di rattura alla censura. Anche l'Occidente, alla fine l'assorbente, è scoperta recente. Solo durante la Prima Guerra Mondiale alcuni infermieri hanno intuito che le bande di cellulosa che usavano per riferite dei soldati assorbivano il flusso meglio del cotone. E da lì l'industria ha seguito letteralmente il flusso e non smette di seguirlo ancora oggi. Da qualche anno, l'ex tennista Annabelle Croft ha inventato una linea di lingerie per sportive. Molti prodotti sono dedicati alle tenniste e alle cavallerizze, braghettoni enormi, quasi ottocenteschi, adatti per quei giorni. Annabelle ha infatti confessato al Guardian che il ciclo l'aveva sempre preoccupata. Quella divisa sportiva delle tenniste che più bianca non si può e quelle gonne così corte erano un vero tormento. Come far a non macchiarle? E poi un giorno la madre si è presentata con dei mutandoni enormi, stile costume da bagno anni 60, e Annabelle è riuscita a superare il suo personale trauma da ciclo indossandoli e poi creando la sua linea. Forse è nello sport che il ciclo colpisce più le donne. Le sportive ai nostri occhi sono delle semi idee pronte ad ogni battaglia come delle moderne amazzoni. Niente può spaventarle o preoccuparle. Invece hanno il ciclo anche loro. Ogni donna che ci viene in mente, da Federica Pellegrini a Serena Williams, sanguina in quei giorni. Il ciclo, ovvero la stanchezza e la spossatezza che arrivano con le mestruazioni colpisce pure loro. Ma in poche erano autorizzate ad ammetterlo. Almeno finché non è arrivata Heather Watson che ha candidamente ammesso in televisione che è stata tutta colpa del ciclo se ha perso gli Open d'Australia. Evviva! Qualcuna finalmente si azzardava a confessare a voce altra questo segreto di pulcinella conosciuto dalle donne di ogni epoca. A volte però parlare troppo di mestruazioni non parta appunto alle battute ma anche alla censura. Ed è successo a Rupi Kaur, una poeta pakistana che vive in Canada. La foto incriminata mostra Rupi Kaur sdraiata sul letto di casa e con il pantalone macchiato dal sangue mestruale. L'istantanea apparteneva ad una serie di foto artistiche ed è stata censurata per ben due volte da Instagram. Rupi Kaur si è detta meravigliata dell'eco e del dibattito creato dal lavoro che lei ha messo in piedi. Non immaginava quanto il tema fosse tabù ancora in Occidente tra l'altro. Chiaramente dopo il clamore creato dagli articoli dagli utenti inferociti per il trattamento riservato alla ragazza Instagram ha presentato le sue scuse e ha rimesso online la foto. Questo però ci dice che una parità mestruale non l'abbiamo ancora ottenuta. Per esempio da piccola io chiamavo il flusso mestruale Guglielmo perché aveva un testo di letteratura italiana il Guglielmino Grosser con la copertina di color rosso acceso. Una mia amica mi ha confessato che la parola mestruazione la mette a disagio. Non la uso mi ha detto proprio un po' di vergogna. Beh questo non è un caso isolato. Ogni donna pur di non chiamare le mestruazioni così come sono si inventa qualsiasi nome ed evocativi per celare il misfatto. Ed ecco che le nostre nonne se vi ricordate dicevano è arrivato il marchese perché pare che questi poveri marchesi usassero delle palandrane rosso fuoco come abito da cerimonia. D'altronde Giubbeross era un altro nome dato al flusso mestruale. Io per esempio era piccola lo chiamavo appunto Guglielmo e dico ah domani mi viene a prendere Guglielmo o mi ha chiamato Guglielmo perché aveva un testo di letteratura italiana appunto che aveva la copertina rossa. Ci vergognavamo in passato e ci vergogniamo ancora oggi perché la società ci ha inculcato un'idea insana di sporcizia e peccato legato a questo evento maschile mensile chiedo scusa non maschile. nessuno di fatto ci ha mai detto che il ciclo fa parte di noi come l'aria che respiriamo come il battito delle nostre ciglia ed ecco che per anni siamo sgattaiolate furtive come se fossimo Arsenio Lupin per buttare nella spazzatura l'assorbente incriminato lontano dallo sguardo di maschi in famiglia siano essi padri fratelli o mariti insomma noi donne cari maschetti siamo vissuti in un incubo creato dai vostri pregiudizi invece di ridere Giuseppe Civati sarebbe ora che gli uomini e le donne si mettessero insieme per superare questo stato di cose e anche per trovare una soluzione all'inquinamento di cui miliardi di assorbenti sono colpevoli cosa fare? ci sono grandi soluzioni dalle colpette vaginali agli assorbetti biodegradabili il mondo si sta attrezzando quindi smettetela di ridere e fatevi venire qualche buona idea per tenere pulito insieme a noi il pianeta e ricordatevi che le mestruazioni sono una cosa seria molto seria anzi senza di loro forse non ci sarebbe la vita probabilmente nemmeno la vostra